Lei con i consiglieri di opposizione Vincenzo Tosti, Vincenzo Russo e Vincenzo Gaudino ha presentato un'interrogazione consigliare per porre l'accento sulle tematiche che riguardano i disabili. Ha sollevato con gli altri esponenti della minoranza una serie di problematiche. Ci dice quali sono? Noi di costruire alternative insieme a in accordo con gli altri due consiglieri di opposizione abbiamo deciso di continuare a dare voce ai diversamente ortesi e quindi abbiamo interrogato il sindaco su alcune problematiche circa il servizio dei trasporti che purtroppo ancora non funziona benissimo nel senso che noi vogliamo un servizio che sia continuo, che quotidianamente deve accompagnare i disabili circa le loro attività quotidiane. Un'altra questione è quella là dell'assegno di cura che attualmente ad Orta Diatella non viene dato a tutti i disabili ma solo ad alcune persone che hanno disabilità. Noi chiediamo appunto che venga dato a tutti, non sappiamo in quale modo però secondo me è doveroso darlo a tutti. Un'altra questione invece è proprio l'assistenza domiciliare. Una cosa importantissima perché a parte ai disabili questa deve essere data anche alle famiglie dei disabili nel senso che ci devono essere la consegna dei medicinali nelle case. Ancora ci devono essere figure presenti che devono andare a casa dei disabili che possono essere operatori sociosanitari, infermieri, medici, fisioterapisti. E ancora poi secondo anche il programma che noi avevamo in atto col nostro progetto era quello proprio di fare anche addirittura compagnia perché il disabile deve sentirsi parte della nostra comunità, non deve essere lasciato nell'indifferenza.